Un'enorme, sempre crescente fetta di popolazione sta soffrendo e soffrirà sempre di più. Non mi riferisco ai malati di coronavirus, mi riferisco alle invisibili vittime del Io resto a casa. Un pensiero per tutti coloro che soffrono di gravi patologie psichiche, depressioni, schizofrenie, psicosi, che senza le strutture e associazioni si trovano in casa con genitori o fratelli o figli che non hanno strumenti per reggere la catastrofica segregazione forzata insieme a chi soffre di simili disagi. Spero che non esplodiate nella logica violenza che sorge dalla segregazione e dalla mancanza di cure appropriate. Un pensiero a tutti i tossicodipendenti, che voi guardate sempre come delinquenti, ma che sono innanzitutto dei malati, perché la tossicodipendenza è una malattia. Spero che non cediate alla violenza, soprattutto nei confronti di chi convive con voi, ora che non potete procurarvi la droga. Un pensiero a tutte le donne che subiscono violenza fisica e psicologica da parte dei loro conviventi, mariti, compagni, perché la convivenza forzata vi mette in serio pericolo. Non esitate a chiamare le forze dell'ordine. Se non sono troppo impegnate a denunciare chi passeggia, forse verranno a salvarvi prima che veniate uccise. Un pensiero alle donne che subiscono violenza sessuale da mariti o compagni che ora, senza poter andare a puttane o altrove, sfogheranno l'energia repressa sui vostri corpi. Un pensiero a tutti coloro che hanno disabilità o che vivono con persone disabili, come il caso di quella madre che ha chiesto di poter usufruire della dolce morte, essendo privata di ogni supporto specializzato per far fronte alla convivenza forzata con il figlio disabile. Un pensiero a tutti coloro che iniziano a pensare al suicidio, perché depressi o inclini alla depressione, fragili e vulnerabili, a cui negare la passeggiata significa negare l'ossigeno e farli morire, metaforicamente, come i contagiati. Un pensiero a tutti coloro che vivono con malati terminali in casa, senza poter usufruire dei normali servizi, magari da soli, con qualcuno che sta morendo. Senza l'ora d'aria, so che potreste morire anche voi. Resistete, se potete. Un pensiero a tutti i minori e bambini che subiscono violenze psicologiche e botte da parte dei genitori che, costretti a star 24 ore con loro, non conoscono altri modi per metterli a tacere o sfogare la propria frustrazione. Un pensiero a tutti quei conviventi che non si sopportavano già prima e potevano condividere casa solo in virtù di ore di lavoro fuori o amanti sparsi in comuni vicini e che ora vedranno impennarsi l'odio in maniera esponenziale. Un pensiero a tutti i figli adolescenti che odiano i genitori e che prima potevano evitare di litigare con essi solo grazie al fatto che era recito passare la giornata serata fuori. Ora litigheranno perennemente e la tensione in casa sarà insopportabile, non potendo uscire nemmeno a sfogarsi. Un pensiero a chi vive in monolocali o piccoli appartamenti senza balconi, in situazioni di disagio e povertà. Non suicidatevi, se potete. Un pensiero a tutti gli anziani soli, senza contatti nei social, senza parenti, la cui passeggiata era il solo modo di contattare un'umanità distante e indaffarata. Un pensiero agli indigenti e senza tetto, che si sono beccati remute perché non erano in giro con una valida giustificazione, quando non hanno nemmeno una casa in cui tornare. Un pensiero a tutti i carcerati, anche quelli del 41 bis in isolamento, perché voi vivete già come noi ora, ma a voi l'ora d'aria è concessa, per diritto. Lo spettacolo orrendo e triste a cui stiamo assistendo oggi, con italiani delatori che denunciano chi fa un giro, come ai tempi del fascio, e polizia impegnata a impedire l'ora d'aria, anziché convincere i governanti a chiudere trasporti pubblici, uffici, fabbriche e supermercati, in cui ancora lavorano oltre 20 milioni di italiani, è un veleno che è già entrato nella nostra psiche. Non scenderò, a livello di chi accusa il vecchio a passeggio o il runner che si allena, di essere colpevoli delle morti altrui, perché il disagio enorme che esiste nelle case in questo momento va solo citato con un invito alla resistenza. Ma il vostro ragionamento potrebbe valere anche per voi, governanti e delatori. Il vostro Io resto a casa, ormai per forza, direi, ucciderà più del virus, tra violenze domestiche, suicidi, botte, disastri psicologici ed economici. In base allo stesso vostro vieco ragionamento, qualcuno potrebbe accusarvi di essere colpevoli della morte, ferimento, violenze, suicidi e tracolli psicologici di milioni di persone. Non migliaia, milioni, le vittime invisibili delle vostre scriteriate scelte. A questa Italia invisibile rivolgo il mio pensiero e vi invito ad unirvi in un saluto collettivo e in una riflessione collettiva sul disastroso effetto di penalizzare le passeggiate in solitaria.